Una giornata dedicata a conoscere da vicino un centro di ricerca, innovazione e produzione di assoluta eccellenza nel settore delle scienze della vita e della salute umana. L'anno trascorsa il vice sindaco metropolitano Jacopo Suppo e la consigliera Sonia Camborsano delegata alle attività produttive al Bio Industry Park Silvano Fumero di Colleretto Giacosa. In questo luogo si è creato davvero un ecosistema nel senso che le specificità e i punti di forza dell'imprenditoria privata e delle possibilità pubbliche hanno trovato un luogo carico di storia perché non ci dimentichiamo che questo luogo nasce innanzitutto da una vecchia cascina di proprietà dell'Olivetti. Hanno trovato un luogo dove poter trovare una sintesi, mettere a sistema le loro peculiarità e far crescere un territorio. Noi abbiamo questa fortuna di essere nati come parco ormai più di vent'anni fa. Ciò che allora venne pensato e che si è dimostrato comunque un progetto vincente è stato quello di mettere a disposizione di realtà che sono delle multinazionali, perché Bracco e Merkel sono multinazionali, ma un'altra poi è arrivata qua importante nel 2018 che è Novartis, un luogo dove potessero crescere con una certa serenità. A Colleretto operano oltre 40 organizzazioni con 650 addetti. Direi che il ruolo di città metropolitana può dimostrarsi fondamentale nel sostenere le attività di questa, che è un'eccellenza di questo territorio, del territorio canavesano, ma è anche un'eccellenza di tutta la città metropolitana. La dimostrazione, ed è quello che la città metropolitana comunque intende promuovere, che non per forza bisogna essere torinocentrici. È un luogo di grande eccellenza, ne siamo molto fieri ed orgogliosi, molto importante per Ivrea, ma molto importante per tutto il territorio, ma non soltanto per il canavese, perché come è stato ricordato è un centro di formazione di eccellenza, quindi è fondamentale a livello nazionale e internazionale, perché ci arrivano persone veramente da ogni dove. Il Bioindustry Park offre strutture insediative e piattaforme di servizio e ricerca in campo scientifico in sinergia con i centri produttivi e di ricerca, con l'Università e il Politecnico di Torino. Fra i casi più noti quello di 3A, una start-up fondata da Stefano Buono acquisita negli anni scorsi dalla Novartis. Grazie.